Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, il sabato c'è l'orario prolungato per le metropolitane con le ultime corse dai capolinei all'1.30 di notte, concluso il servizio metro e il servizio poi come di consuetudine prosegue su bus, tutti i dettagli sono su romamobilita.it. Passiamo alle altre notizie, il 17 marzo torna l'appuntamento con la Maratona di Roma, il percorso della gara, le chiusure al traffico previste e le modifiche per il trasporto pubblico, tutti i dettagli e gli aggiornamenti su romamobilita.it.